Un nodo molto interessante è il cosiddetto Perfection Loop, prendiamo il nostro filo, creiamo un primo cappio, abbastanza generoso, un secondo cappio, lo affianchiamo e lo tratteniamo con le nostre dita, facciamo passare il filo rimasto in mezzo ai due cappi, blocchiamo anch'esso con le dita, dopo di che andiamo a prendere il secondo cappio e lo facciamo passare dentro il primo, andiamo a chiudere, abbiamo ottenuto un cappio perfetto, non scorrevole, può esserci utile in tantissime occasioni, ad esempio per collegare un tip a un finale da mosca, chiaramente facendolo molto molto piccolo, oppure anche altre occasioni come collegare un ammo, collegare un artificiale, si chiama Perfection Loop.